Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La storia di oggi ci accompagnerà in un periodo molto recente della storia dell'umanità che tutti voi conoscete come Guerra Fredda, un periodo che per chi come me e come voi è appassionato di storia è pienissimo di storie curiose. Un periodo in cui i due blocchi, le due superpotenze, Unione Sovietica e Stati Uniti, oltre a condurre una guerra sotterranea fatta di finanziamenti a gruppi vicini a uno all'altro, o interventi in varie zone del mondo, condussero anche una guerra fatta di spie, fatta di spionaggio, fatta di tentativi di avvantaggiarsi sull'avversario per scoprire quali fossero i suoi segreti, segreti politici, segreti diplomatici e soprattutto segreti militari. All'interno di questo mondo avvengono, sono avvenute tutta una serie di storie che alle volte sembrano tirate fuori da un film o da un libro di James Bond, e da un libro di spionaggio, tanto sono inverosimili, tra cui quella di oggi. La storia di un sottomarino sovietico, che a causa di un incidente affondò, portando purtroppo alla morte di tutto l'equipaggio, e che divenne la base di una storia di spionaggio che ha veramente dell'incredibile, con gli Stati Uniti che cercarono in tutti i modi di recuperare il sottomarino per scoprirne i segreti. Siete incuriositi? Beh, lo ero tantissimo anch'io quando Mauro Mazzotti mi ha mandato il materiale per questa pila. Lo ringrazio veramente tantissimo perché era una storia di cui non sapevo niente, ma che per primo, lo ammetto, mi ha appassionato tantissimo. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Il protagonista della nostra storia di oggi è il sottomarino K-129, sottomarino sovietico lanciamissili classe Golf, o meglio dato che era stato rimodernato poco tempo prima della sua ultima missione, classe Golf 2. Ora, c'è già da dire qualcosa su tutto quello che vi ho detto, che ho detto che oggi sembra una pappardella presa direttamente dall'incipito di un libro. In effetti questo dice già molto e ci dà già alcune curiosità legate alla Guerra Fredda. Il primo è proprio il nome della classe, classe Golf. Bene, vi stupierà sapere che molto spesso quando si parla di mezzi sovietici, sottomarini, navi, aerei, del periodo della Guerra Fredda, molto spesso sui libri di test in Occidente vengono identificati non con il nome che veniva dato loro in Unione Sovietica, ma con il nome che veniva dato loro nei paesi della Nato, tanto che, come in questo caso, si dice classe Golf, codice Nato. Questo perché quando l'Unione Sovietica progettava un nuovo mezzo, temporaneamente dava a questo mezzo un semplice numero. Si parla, ad esempio, nel caso di questo sottomarino, di progetto 629. Quando poi il mezzo entrava in produzione, arrivava alle forze armate, a differenza di quanto succedeva in Occidente, non veniva di solito dato un nome che andasse ad identificare tutta la classe, anche se poi sappiamo che i sommergibilisti, in questo caso i militari sovietici, di solito davano poi dei soprannomi ai mezzi che in qualche modo diventavano di uso colloquiale in tutte le forze armate. Ovviamente, però, questi nomignoli, così come le caratteristiche dei mezzi, che in un momento di guerra fredda erano ovviamente segrete, questi nomignoli non arrivavano alla controparte Nato, che quindi nel momento in cui identificava questi nuovi mezzi, o perché prendevano parte a parate, o perché venivano annunciati, o perché venivano scoperti, ovviamente tramite spionaggio, affibbiava loro dei nomi, dei nomi in codice, che talvolta avevano un significato, talvolta no, di modo da poterli identificare e indicare più facilmente sui documenti. Nomi in codice che poi venivano utilizzati da tutti i paesi aderenti alla Nato e che spesso sono quelli che ancora oggi vengono utilizzati per indicare questi mezzi. Ad ogni modo, il sottomarino di oggi era un sottomarino lanciamissili. Che cosa vuol dire sottomarino lanciamissili? Un sottomarino il cui scopo non era dar la caccia ad altri sottomarini o dare la caccia alle navi, così come facevano i sottomarini nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Questo tipo di sottomarini ovviamente continua a esistere anche oggi, ma è un altro tipo. No, i sottomarini lanciamissili hanno proprio lo scopo di avvicinarsi, non visti il più possibile, alle coste avversarie o a particolari installazioni, per poter lanciare i loro missili, che non sono siluri ma sono proprio missili che molto spesso, come nel caso di questo sottomarino, portano con sé delle testate nucleari. Ora, voi vi chiederete a cosa serve in un periodo in cui, siamo alla fine degli anni 60, già erano disponibili missili in grado di portare testate nucleari da una parte all'altra della Terra? Beh, in realtà era molto utile, perché questi missili, i missili di terra, quelli che venivano fatti partire da dei silos appositi presenti sia in Unione Sovietica che negli Stati Uniti, avevano uno svantaggio, cioè quello di essere noti al nemico. Se io costruisco un silos e ci metto dentro un missile nucleare, prima o poi quel silos, per quanto io possa essere stato il più possibile attento nel non farmi scoprire, prima o poi quel silos verrà identificato. E il timore sia dei sovietici che degli americani era che nel caso di un attacco nucleare, una parte dei missili del First Strike, del primo attacco, il primo che avesse lanciato, sarebbe stata diretta proprio verso questi siti di silos, con il timore che una parte di questi potesse essere distrutta e dare una risposta inferiore. Perché ovviamente i silos erano protetti da strati e strati di cemento e di acciaio, ma nessuno aveva ben chiaro quanto sarebbero stati in grado di resistere in caso di un attacco nucleare. Ovviamente, quindi, era necessario diversificare la propria possibilità di attacco strategico, di attacco nucleare, e per farlo, oltre agli CBM, quindi ai missili intercontinentali che vennero sviluppati da entrambe le parti, vi erano altre due armi in grado di intervenire in maniera, come dire, più difficile da intercettare. La prima era l'arma aerea, i grandi bombardieri, un metodo utilizzato con grosso effetto dagli Stati Uniti, che durante la Guerra Fredda avevano molto spesso questi bombardieri strategici che attraversavano il mondo intero portando con sé delle bombe atomiche pronte ad intervenire in caso di necessità, e l'altra era proprio l'arma sottomarina, cioè dei sottomarini che dovevano, senza farsi vedere, infilarsi tra le maglie delle difese navali avversarie e in questo modo poter colpire per primi. Li avevano gli Stati Uniti, li avevano ovviamente ancora di più i sovietici, che essendo inferiori dal punto di vista della marina, quella di superficie, avevano sviluppato degli ottimi sottomarini in questo senso. Tutto questo faceva parte di quell'equilibrio della mutua distruzione assicurata, il MED, come spesso viene chiamato, che in qualche modo ha garantito l'equilibrio per tutta la Guerra Fredda e forse ha evitato che una nuova guerra potesse scoppiare. Questo tipo di sottomarini lanciamissili, peraltro, ultima curiosità, poi torniamo alla storia, pensate che venne sviluppato durante la Seconda Guerra Mondiale dai tedeschi, che furono i primi a pensare a un sistema per permettere ai sottomarini di lanciare delle V2, quando si resero conto che i loro siti di lancio delle V2 erano ovviamente un ottimo obiettivo per i bombardamenti alleati. Ovviamente le sperimentazioni tedesche non portarono a risultati adeguati, ma l'idea rimase e venne poi ripresa successivamente. Ad ogni modo, il K-129, protagonista della storia di oggi, come vi dicevo, era un sottomarino che nel 1968, quando inizia la nostra storia, era già abbastanza antiquato, era già stato rimodernato una volta, tanto che in Occidente si parlava di Golf 2, e dopo il rimodernamento aveva già compiuto due crociere, cioè era uscito dalle basi navali nell'estremo oriente dell'Unione Sovietica e aveva superato lo schermo di protezione della flotta statunitense, i cui sottomarini operavano con quello scopo a non molta distanza dalle coste sovietiche, e aveva fatto una crociera diretta di solito attraverso il Pacifico verso le Hawaii proprio per avvicinarsi alle posizioni americane. Come vi dicevo, lo scopo era, nel caso di un eventuale attacco, essere pronti a lanciare subito una risposta. Alla fine del 1967, il sottomarino era rientrato e teoricamente, dopo questa seconda crociera, era previsto un lungo periodo di stop per permettere di compiere una manutenzione del sottomarino. Come dicevo, iniziava ad invecchiare. Nel febbraio del 1968 però successe qualcosa di imprevisto. Un sottomarino di classe Eco 2, quindi una classe diversa, di cui era stata organizzata una crociera diretta verso le Hawaii, ebbe un guasto e non fu in grado di prendere il mare. Sulla carta sarebbe dovuto essere sostituito da un altro sottomarino della stessa classe, ma in quegli stessi giorni era in atto una crisi internazionale, perché una nave americana, la USS Pueblo, una nave mascherata, se così vogliamo dire, da mercantile, ma che in realtà faceva spionaggio elettronico, era stata scoperta dalle forze nordcoreane vicino alle loro coste, mentre ovviamente stava operando, era stata catturata e portata in Corea del Nord insieme a tutto l'equipaggio. La cosa ovviamente aveva scatenato una crisi internazionale, e gli Stati Uniti avevano mandato una parte della loro flotta, proprio vicino alle coste nordcoreane, preparandosi eventualmente ad intervenire. Poi la situazione si era poi risolta, l'equipaggio era stato riconsegnato alla Corea del Sud, e che l'aveva poi rimandati negli Stati Uniti, la nave, la USS Pueblo, pensate, ancora oggi si trova in Corea del Nord, ed è un... viene mostrata, un tempo si trovava lungo un fiume, oggi è stata portata in un museo, viene mostrata come simbolo della grandezza della Corea del Nord. Gli Stati Uniti, che forse non hanno mai rinunciato all'idea di recuperarla, ancora oggi però la considerano una nave attiva nella loro flotta. Ad ogni modo, questo dispiegamento di forze statunitensi aveva ovviamente attirato gli altri sottomarini Eco-2 che erano stati mandati a cercare di capire che cosa stessero facendo, e quindi non era disponibile un altro sottomarino che potesse compiere la stessa missione. Per questo venne chiesto al capitano del K-129 Vladimir Kobzan di imprendere al più presto il mare. Gli vennero dato 11 giorni, vennero sospese le licenze dei suoi uomini e gli venne chiesto di preparare il sottomarino per compiere la crociera di 70 giorni fino alla Hawaii e tornare indietro. Il capitano, che era molto esperto, uno dei più esperti capitani della flotta, disse che il sottomarino non era pronto, che i suoi uomini erano stanchi, che bisognava fare manutenzione, ma gli fu risposto che non c'erano altre possibilità. E quindi fu costretto a richiamare i suoi uomini, in tutta fretta preparare il sottomarino e partire. E con lui partirono altri 82 uomini di equipaggio. L'equipaggio interno del sottomarino era fatto appunto da 83 uomini, tra ufficiali, tecnici e marinai, e insieme a loro altri 12 marinai che partirono con loro per l'addestramento. Era una cosa abbastanza classica che succedesse quando c'erano queste crociere, venivano imbarcati anche alcuni marinai appunto in addestramento, che imparavano in questo modo direttamente il mestiere sul campo per poi passare ad altri sottomarini. E così, il 25 febbraio 1968, il sottomarino prese il mare. La prima fase della missione ovviamente doveva essere segretissima, perché, come vi dicevo, la flotta statunitense controllava il mare di fronte all'Unione Sovietica, manteneva lo stretto controllo del Pacifico, ottenuto nella Seconda Guerra Mondiale, e i sottomarini sovietici, se volevano riuscire a mantenere segrete la loro missione, dovevano passare attraverso questa rete di sottomarini americani senza farsi vedere. Ora, ovviamente, se gli americani li scoprivano, non è che li affondavano, perché non si era in uno stato di guerra, ma una volta identificato un sottomarino, diventava molto facile seguirne la crociera. E ovviamente, togliendo qualunque tipo di segretezza, rendeva anche inutile avere delle armi nucleari in quella posizione. Ad ogni modo, il capitano del K-129 si dimostrò molto abile, e complice anche un po' di rilassatezza da parte delle forze americane che erano concentrate al trover, riuscì a passare attraverso la rete di sottomarini e a prendere il mare. Da questo momento, la crociera sarebbe dovuta proseguire quasi sempre in immersione. Il sottomarino avrebbe dovuto raggiungere al limite quota periscopio, o meglio, quota snorkel, la struttura che permetteva, senza dover emergere di fare entrare aria all'interno del sottomarino, sia aria necessaria sia per l'equipaggio che soprattutto per i motori, e sarebbe dovuta riemergere il sottomarino solo in alcuni momenti per comunicare di essere sulla strada per compiere la missione. Insomma, una specie di messaggio di controllo. Il primo di questi messaggi venne mandato già il 26 febbraio, un messaggio che informava che tutto era a posto, il sottomarino procedeva sulla missione ed erano riusciti a passare il primo schermo. americano. Il secondo messaggio, che sarebbe dovuto giungere tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, però non giunse mai. Inizialmente si pensò ad un guasto, si pensò a qualche problema della radio, ma quando anche il secondo messaggio che doveva arrivare l'8 marzo non arrivò, all'alto comando sovietico iniziarono a pensare al peggio, iniziarono a pensare che a sottomarino fosse successo qualcosa. E così, il 9 marzo, dopo una riunione in cui sappiamo venne discusso non che ci potesse essere stato un problema, ma semplicemente che il sottomarino fosse per qualche motivo affondato, ricordatevelo questo perché tornerà dopo, si decise di fare un ultimo tentativo. Si iniziò a diffondere su tutti i canali in maniera decisamente più aperta l'informazione al sottomarino di comunicare nel più breve tempo possibile, di informare, anche violando la segretezza della sua posizione, e che stesse bene. Ma sottomarino ancora una volta non rispose. E così, il 10 di marzo 1968, l'Unione Sovietica fece partire una vera e propria missione di salvataggio. Partendo dall'ultimo punto dove il sottomarino era stato identificato e proseguendo lungo la rotta che avrebbe dovuto ottenere nei giorni successivi, 36 navi, 5 sottomarini e molti aerei iniziarono una ricerca ad ampio raggio per cercare di capire che cosa fosse successo. Inutile dire che quella ricerca ad un certo punto attirò le attenzioni degli Stati Uniti, che analizzando il comportamento delle navi e mandando peraltro vicino dei sottomarini a loro volta per capire cosa stessero facendo, capirono che doveva essere una missione di ricerca, capirono che i sovietici stavano cercando qualcosa. Cosa? Beh, lo sapevano in realtà anche gli americani, perché quel primo messaggio che il sottomarino aveva mandato il 26 febbraio era stato intercettato anche dalle stazioni di ascolto americane, che non erano in grado di capire che cosa fosse stato detto, perché non erano in grado di interpretare i codici sovietici, ma sapevano che si trattava del messaggio di un sottomarino. E dato che appunto sapevano che c'era un sottomarino nella zona dove i sovietici stavano cercando, si resero conto che quello di cui erano alla ricerca era proprio il K-129. I sovietici nelle settimane successive fecero di tutto per capire che cosa fosse successo. batterono la zona, avanzarono anche lungo il tragitto che avrebbe dovuto compiere nei giorni successivi, ma non riuscirono a trovare nulla. Non riuscirono a trovare nulla e dopo alcune settimane di ricerche decisero di rinunciare. Tornarono indietro in patria e annunciarono che il sottomarino, il K-129, a causa di un guasto era probabilmente affondato e che con lui aveva portato con sé i 98 marinai che erano morti e ora si trovavano in una tomba in fondo al mare. La cosa in Unione Sovietica ovviamente venne fatta circolare il meno possibile ma anche nei comandi militari della Marina fece un grosso effetto perché non era mai più stato perso un sottomarino in questo modo dalla Seconda Guerra Mondiale e soprattutto non c'erano mai più stati così tante perdite anche quello dall'ultima Grande Guerra. Quando i sovietici si ritirarono gli statunitensi iniziarono a loro volta a farsi due conti perché anche in questo caso dal modo in cui era avvenuta la ricerca che era continuata fino all'ultimo giorno senza che venisse identificata una posizione e dal fatto che i sovietici fossero tornati indietro così rapidamente gli americani capirono che il sottomarino non lo avevano trovato. Gli americani però andando ad analizzare alcune registrazioni dei loro meccanismi di ascolto questi meccanismi che si trovavano in varie basi nel Pacifico che andavano ad ascoltare qualunque rumore possibile e seguendo quella che doveva essere stata la rotta del sottomarino secondo quelle che erano loro conoscenze improvvisamente trovarono un'informazione. Scoprirono che l'11 di marzo del 1968 quindi tre giorni dopo l'ultimo contatto previsto che non era avvenuto e quando già i sovietici stavano cercando lungo la rotta del sottomarino si erano sentiti due rumori due rumori che inizialmente vennero identificati come uno scoppio avvenuto probabilmente molto vicino alla superficie ed un rumore come di qualcosa di metallico che collassa su di sé. L'idea era che quei due rumori fossero il rumore di uno scoppio avvenuto in superficie che aveva fatto affondare il sottomarino che una volta raggiunta una quota a cui non era destinato ad operare era imploso su se stesso da cui il secondo rumore. Perché l'11 di marzo voi direte quindi quando ormai il sottomarino era dato per disperso perché secondo gli americani in realtà il sottomarino aveva veramente avuto un problema alla radio quindi aveva continuato a comunicare ma non erano mai arrivate le comunicazioni e quindi i sovietici che tutto questo non lo sapevano avevano cercato nel posto sbagliato laddove il sottomarino più non si trovava. E così gli americani iniziarono a farsi due conti. La marina iniziò a ragionare che un sottomarino sovietico in fondo al mare poteva essere molto interessante. Se si fosse riusciti a trovare il sito dell'affondamento e ora la base per farlo c'era ed entrare nel sottomarino si sarebbe potuto procurarsi non solo i missili nucleari sovietici in modo da poterli studiare ma anche e soprattutto i cifrari utilizzati dai sovietici e questo avrebbe dato alla marina un vantaggio incredibile e quindi ottenuto il permesso da parte del governo statunitense la marina si mise alla ricerca del sottomarino. Per poterlo trovare venne utilizzato un sommergibile un sottomarino particolare cioè lo USS Alibut pensate che lo USS Alibut era nato a sua volta come un sottomarino lanciamissili e era stato uno dei primi prodotti negli Stati Uniti ed era molto arretrato per così dire lanciava dei missili che sembravano quasi delle V1 addirittura non portavano ovviamente ancora armi atomiche col tempo era stato considerato arretrato era stato tentato si era tentato di aggiornarlo secondo metodiche più moderne ma non era compatibile si era tentato di trasformarlo in un sottomarino da caccia quindi un sottomarino che andasse a caccia di altri sottomarini ma anche in questo caso non si era ritenuto che fosse adeguato e dato che si piaceva di smettere un sottomarino costruito da così poco si era deciso di trasformarlo in un sottomarino da operazioni speciali da ricerca di informazioni e di mezzi subacquei l'alibut era stato mandato laddove erano stati sentiti gli scoppi e dopo una breve ricerca era finalmente riuscito a trovare il K-129 che venne identificato a 5000 metri di profondità più o meno nel punto dove erano stati sentiti gli scoppi quando l'alibut osservò di sottomarino sott'acqua scoprì che stranamente era quasi intatto c'era un danno a livello della torretta della parte che è quella più in alto che probabilmente aveva causato l'affondamento ma il resto del sottomarino era praticamente intatto e quindi si poteva cercare il recupero una volta ottenute queste informazioni e scattate una marea di foto la marina fu pronta a presentare al presidente degli Stati Uniti Richard Nixon il piano per che aveva in mente per il sottomarino sovietico la marina aveva in mente un piano molto semplice non recuperare tutto il sottomarino era una cosa considerata difficile e inutile ma mandare dei piccoli sottomarini in profondità che avrebbero dovuto entrare all'interno del sottomarino sovietico e recuperare quello che interessava la cosa peraltro aveva un'altra valenza di interesse un intervento di questo genere sarebbe stato molto difficile da scoprire perché il timore era ovviamente che se i sovietici avessero scoperto cosa gli Stati Uniti stavano facendo li avrebbero potuti accusare tra frigolette quasi di pirateria o comunque la cosa avrebbe potuto rappresentare un incidente diplomatico dopotutto in questo sottomarino c'erano i corpi di 98 marinai sovietici con un intervento invece così mirato il rischio di essere scoperti sarebbe stato molto basso il problema fu che alle riunioni in cui si parlò di questo progetto erano presenti anche dei rappresentanti della CIA che prima ottennero di poter entrare a far parte del comitato che doveva preparare progetto e poi decidere a riguardo e ad un certo punto iniziò a proporre un qualcosa decisamente più grande decisamente più importante propose non di recuperare alcuni oggetti ma di recuperare l'intero sottomarino ora la cosa la marina inizialmente non piacque per niente dissero che non solo era rischioso non solo era molto complicato dicendo che recuperare un sottomarino a quella profondità voleva dire probabilmente spezzarlo durante la risalita e rischiare quindi di perdere tutto ma dissero che era anche inutile perché quel sottomarino era un sottomarino antiquato che difficilmente avrebbe potuto avere chissà quali segreti tecnologici a bordo interessanti quindi si trattava di fare un'opera complicata senza nessun vantaggio alla CIA però quell'opera piaceva e quindi presentarono a Richard Nixon un piano da 300 milioni di dollari una cifra enorme per l'epoca per riuscire ad attuare questo recupero il piano a Nixon piacque e si decise di andare avanti ovviamente questa operazione non poteva essere fatta direttamente con i mezzi della marina militare perché i sovietici avrebbero rapidamente mangiato la foglia e quindi si decise di mascherare il tutto da un'operazione civile chiedendo ad un'industria privata di costruire la nave che si pensava fosse necessaria l'industria privata che venne scelta era quella di Howard Hughes eccentrico miliardario che magari molti di voi conoscono per i film Via Vietor quello con Di Caprio chiamato così perché Hughes era anche un grandissimo appassionato di aviazione aveva costruito quello che per tantissimi anni fu il più grande aereo al mondo da aver mai volato superato poi in tempi molto più recenti da un aereo da trasporto sovietico poi ucraino che purtroppo è andato distrutto durante la guerra nei primi giorni di guerra e superato poi recentemente per apertura all'area da un mezzo utilizzato nell'esplorazione spaziale tenetevi conto per quanto tempo durò questo record ad ogni modo le industrie di Hughes venne chiesto di produrre una nave che dall'aspetto potesse sembrare una nave da esplorazione da ricerca o da ricerca di materiali ma che in realtà fosse adatta a recuperare questo sottomarino secondo alcuni venne scelta questa industria perché Hughes aveva appoggiato la campagna presidenziale di Nixon e sostanzialmente era del denaro pubblico che finiva ad un finanziatore privato non una vera e propria tangente ma diciamo che Nixon aveva scelto un amico la cosa non è ovviamente provata ma la troverete scritta da molte parti quindi è giusto riportarla ad ogni modo Hughes e la CIA fecero le cose per bene anche se ci volero parecchi anni ben sei anni per riuscire a produrre la nave che sarà poi utilizzata nel 1974 per tentare il recupero la cosa venne organizzata nei minimi dettagli la Glomar Explorer questo era il nome della nave venne creata per sembrare una nave che dovesse fare delle ricerche oceaniche e in effetti nei mesi precedenti alla sua partenza venne detto che Hughes aveva in mente di iniziare ad esplorare le riserve di manganese sottomarine vennero fatti pubblicare articoli che magnificavano queste nuove ricerche di materiale si parlava di miniere incredibili sottomarine in modo da far credere che tutto fosse normale finalmente nel 1973 la nave venne varata e dopo un lungo periplo attraverso tutte le Americhe perché era troppo grande per passare nel canale di Panama giunse sulla costa occidentale e nell'estate del 1974 venne mandata ad iniziare le operazioni c'è una curiosità durante il lungo viaggio fece una sosta in Cile lo fece nei giorni nel settembre del 1973 in cui in Cile si stava consumando il colpo di stato contro Salvador Allende finanziato proprio dagli Stati Uniti la cosa mise a rischio l'operazione perché alcuni cileni cercarono di salire a bordo della nave e ci furono alcuni problemi che vennero però risolti e la nave riuscì a partire insomma la politica americana alle volte si incastra dentro se stessa ad ogni modo nell'estate del 1974 la nave venne mandata sul sito dove si sapeva che ci fosse sottomarino dopo aver trovato la posizione iniziò la sua opera sulla carta la cosa era relativamente semplice sotto la nave c'era un compartimento che aprendosi faceva scendere una specie di grande tenaglia composto da più bracci che avrebbe dovuto raggiungere la profondità prevista catturare il sottomarino e lentamente molto lentamente due metri al minuto e sottomarino si trovava a 5.000 metri di profondità avrebbe dovuto risalire portarla per un tratto consegnarla ad un cargo che l'avrebbe invece imbarcata all'interno nascosta e rimbarcato all'interno nascosto e portato verso le Hawaii le cose però fin dall'inizio si dimostrano complicate la grossa pinza quando venne fatta scendere sbattè contro alcune formazioni rocciose e quando arrivò all'altezza prevista lo fece in maniera troppo violenta tanto che alcuni bracci di questa pinza erano 8 bracci si ruppero della cosa ovviamente non se ne accorsero subito e dopo aver raccolto il sottomarino e iniziato a farlo risalire iniziarono i problemi arrivati a 3.500 metri 3 dei bracci delle pinze si ruppero definitivamente il sottomarino iniziò a rimanere in bilico perché non era più retto adeguatamente si cercò di farlo risalire più lentamente ma ad un certo punto il sottomarino si inclinò si spezzò a causa della posizione che aveva preso e tutta la parte di poppa del sottomarino la parte posteriore cadde nuovamente indietro frantumandosi e ovviamente dato che cadde per altri 1.500 metri scese per altri 1.500 metri spargendosi su una grandissima superficie il problema era che buona parte di quello che interessava la marina cioè i codici militari si trovavano proprio lì e quindi vennero persi per sempre dato che non fu possibile organizzare un'altra spedizione il resto del sottomarino venne invece riportato a galla e insieme ad esso vennero riportati a galla anche i corpi di sei marinai che però presentavano tracce di radioattività e vennero come è tradizione per i marinai che muoiono in mare vennero rissepolti proprio in mare facendogli scendere dentro delle casse vennero fatti dei video che dovevano documentare il seppellimento dicendo se i sovietici lo dovessero mai scoprire almeno possiamo dimostrare di aver fatto tutto per i loro marinai venne preso quello che si riusciva a prendere e dato che era necessario riparare la pinza si decise di tornare in porto pensando l'anno successivo magari di poter riprendere le esplorazioni ora su questo vi dico che però c'è un'altra teoria perché su alcuni libri in tempi più recenti è comparsa l'idea che in realtà il fatto che il sottomarino si fosse spezzato sia stata una falsificata dagli Stati Uniti perché ovviamente il fatto che il sottomarino si sia spezzato e abbia sparso su tantissimi chilometri non permette oggi di andare a trovare il relitto quindi nessuno può confermare e qualcuno crede che in realtà gli americani abbiano recuperato tutto il suo emergibile e abbiano inventato sottomarino e abbiano inventato questa storia semplicemente per non far capire che cosa avessero trovato ma ad oggi la versione ufficiale e non vi sono prove al contrario se non il fatto che gli Stati Uniti abbiano con sé abbiano poi consegnato ai russi la campanella del sottomarino che secondo alcuni non si sarebbe dovuto trovare nella parte di sottomarino recuperato ma non ci sono prove che gli Stati Uniti abbiano recuperato l'intero sottomarino la guerra fredda è finita quindi teoricamente la cosa sarebbe potuta anche essere svelata ma in effetti buona parte dei documenti che sono legati a questa operazione continuano ancora oggi a essere top secret quindi la sicurezza in un senso o nell'altro non ce l'abbiamo ad ogni modo come vi dicevo sulla carta si iniziava a progettare un secondo intervento per l'anno successivo per il 1975 ma non ci fu mai non ci fu mai perché questa operazione nel mente era stata scoperta a scoprirla non erano stati i sovietici ma erano stati gli stessi giornalisti americani che già nel 1974 con alcuni giornalisti del New York Times erano riusciti a mettere le mani su documenti che rimandavano al cosiddetto progetto Azorian che altro non era che proprio il progetto di recupero del sottomarino inizialmente la CIA era intervenuta era riuscita a calmare le acque ad evitare che la notizia circolasse ma man mano che uscivano nuovi documenti a riguardo di questa operazione sempre più giornalisti se ne interessavano non perché fossero interessati al fatto che veniva recuperato un sottomarino sovietico ma per i costi giganteschi che quell'operazione aveva comportato perché dai 300 milioni che già era una cifra enorme che erano stati stanziati progressivamente i costi erano lievitati addirittura a 500 milioni e dato che siamo negli anni in cui si è esploso lo scandalo Watergate e quindi c'era una grossa attenzione su quello che faceva l'amministrazione americana la cosa nel 1975 deflagrò in un vero e proprio caso di stampa la marina inizialmente cercò di negare ma ad un certo punto dovette ammettere che in effetti quel tentativo di recupero era stato fatto uno potrebbe pensare che l'unione sovieti a questo punto abbia fatto il diavolo a 4 per quello che era accaduto in realtà le cose non andarono così perché ovviamente per i sovietici questo costituiva uno smacco ancora più grande non solo avevano perso un sottomarino non solo avevano perso 98 marinai ma non erano neanche stati in grado di trovarlo mentre a trovarlo erano stati gli Stati Uniti e così nonostante ci fosse stato il caso sulla stampa americana dal punto di vista diplomatico non ci furono grossi risultati gli Stati Uniti consegnarono le immagini del fatto che avessero seppellito i corpi dei marinai se la cavarono semplicemente con le condoglianze e la cosa venne chiusa lì come vi dicevo a distanza di anni già caduta l'unione sovietica gli Stati Uniti consegnarono la campanella del sottomarino che la campanella viene suonata così non così come la campana come simbolo o in qualche modo di amicizia ad ogni modo quando finalmente le informazioni iniziarono a circolare entrambi i blocchi iniziarono a cercare di capire che cosa fosse successo a sottomarino perché era importante capirlo beh era importante capirlo soprattutto per i sovietici per cercare di capire che cosa potesse essere andato storto anche perché fin dall'inizio si era capito che un equipaggio esperto con un capitano esperto difficilmente potevano aver compiuto loro un errore tale da portare all'affondamento del sottomarino la stessa cosa ovviamente interessava gli stati uniti che anche loro avevano sottomarini non uguali ma simili e volevano a loro volta evitare un errore la prima interpretazione che venne dato degli avvenimenti fu che il tutto fosse stato causato dallo snorkel lo abbiamo detto prima questo meccanismo che permetteva di far entrare aria all'interno del sottomarino senza farlo emergere completamente bene quello snorkel secondo i sovietici aveva funzionato male a causa di un errore di montaggio o a causa della rottura di una delle valvole che impedivano all'acqua di entrare mentre entrava l'aria aveva iniziato ad entrare nell'acqua questo aveva lagato il sottomarino che non era stato in grado di riemergere ma era affondato e raggiunto appunto la pressione una pressione a cui non era più abituato a lavorare una profondità a cui non era destinato a lavorare il sottomarino era imploso gli analisti statunitensi invece la pensarono fin dall'inizio diversamente perché una volta visto sottomarino si erano resi conto che questo sottomarino non era imploso questo perché probabilmente aveva già imbarcato talmente tanta acqua quando ancora si trovava in superficie che questo aveva reso la pressione dall'interno e dall'esterno pari e quindi non c'era stata l'implosione la motivazione che venne quindi adotta dopo aver analizzato le varie immagini e dopo aver ripassato le registrazioni fatte in quell'11 marzo 1968 attraverso nuovi strumenti fu che fosse successo qualcosa di diverso mentre il sottomarino si trovava invece in emersione vennero fatte due teorie la prima prevedeva che alcune delle batterie del sottomarino avessero fossero esplose o avessero scatenato un incendio e che quell'incendio avesse provocato un danno tale da far affondare il sottomarino la seconda che sembrava più probabile prevedeva invece che il sottomarino avesse iniziato per scopi di puro addestramento degli uomini che erano a bordo a simulare il lancio di alcuni missili ovviamente missili che non dovevano essere realmente lanciati si dovevano provare solo le varie metodiche ma che a causa di un errore umano o della macchina questo aveva scatenato un incendio che aveva danneggiato il sottomarino facendo riempire d'acqua e quindi affondare insomma una cosa diversa rispetto a quanto immaginato dai sovietici ad oggi però la sicurezza non c'è anche se secondo molti analisti questa pare la versione più probabile inutile dire che come sempre capita quando succedono queste cose si svilupparono poi tutta una serie di teorie del complotto da parte sovietica la teoria del complotto era legata al fatto che il sottomarino fosse stato affondato da un altro sottomarino in particolare lo USS Swordfish che proprio in quei giorni era rientrato precipitosamente in porto per riparazioni ma delle foto fatte peraltro non dalla marina statunitense ma da parte di attivisti giapponesi che protestavano contro questi sottomarini nucleari avevano fatto vedere che in realtà il danno era semplicemente un danno al periscopio ed era difficile pensare che un sottomarino fosse affondato e l'altro avesse avuto un danno così minimo da parte statunitense invece negli anni ne sono fiorite ben due di teorie del complotto la prima che peraltro è stata ripresa anche in un film dedicato alla questione vuole che il capitano avesse deciso autonomamente di lanciare i missili nucleari per far iniziare una guerra nucleare e che solo un meccanismo posizionato per evitare situazioni del genere aveva fatto affondare il sottomarino la seconda teoria vuole che invece tutto questo facesse parte di un complotto sovietico che voleva utilizzare quel sottomarino di cui ne esisteva un modello anche in mani cinesi all'epoca i rapporti dell'unione sovietica e la cina comunista erano peggiorati tantissimo anzi la cina comunista si era quasi avvicinata agli stati uniti in opposizione all'unione sovietica bene quest'idea del complotto è che l'unione sovietica volesse lanciare questi missili nucleari per scatenare una guerra tra cina e stati uniti inutile dire che anche queste due teorie non hanno nessuna prova anzi ci sono una valanga di cose che non tornano un'on ultima il fatto che i cinesi avessero sì un sottomarino del genere ma non fossero in grado di lanciare dei missili nucleari come quelli che sarebbero stati utilizzati però insomma queste continuano a circolare e tanto è la Glomare Explorer la nave che era stata utilizzata per tentare il recupero pensate sarà poi trasformata veramente in una nave per fare ricerche in alto mare verrà modificata e continuerà ad operare fino al 2015 operando in varie zone del mondo per cercare dei giacimenti sottomarini alla fine di tutta questa missione di tutte le discussioni i soldi spesi rimase una cosa sola in questo sottomarino 98 persone erano morte e se posso immaginare una morte orribile quella di morire all'interno di un sottomarino che affonda come in una scatola che va giù in profondità magari con un sottomarino che a un certo punto collassa e uno rimane dentro o comunque soffocati come purtroppo è capitato ai marinai del Kursk sottomarino russo affondato una ventina circa di anni fa beh se devo pensare una morte orribile questa sicuramente è una di quelle che metto al primo posto ad ogni modo io mi fermo qua spero sia stata una pillola interessante ringrazio ancora una volta Mauro Mazzotti per tutto il materiale che mi ha mandato che mi ha consigliato ripeto soprattutto però mi ha fatto scoprire questa storia di cui anch'io non sapevo nulla come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti oggi in particolare il mio ringraziamento va a Luciano Gemme grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuno di queste storie qui a fianco c'è del enco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao